Ciao ragazzi, bentornati nuovo nel mio canale oggi parliamo ancora di html e parliamo del tag break il tag break serve per permettere all'interno di un paragrafo la possibilità di andare a capo vedete, ora ho dato un invio qui a questa stringa lunghissima a questo testo lunghissimo se andiamo a vedere, così come appare sulla pagina html del browser, vedete l'invio, pur dandolo non ha avuto effetto quindi il paragrafo si vede su un'unica riga quindi andiamo qui riposizioniamo di nuovo il testo su un'unica riga per dare la possibilità all'html di interpretare quindi di dare quella spaziatura quella a capo tra una parte di un testo e l'altro, dobbiamo usare il tag break come si usa? semplicemente come tutti gli altri tag quindi parentesi triangolare break apro e devo chiudere ovviamente il break qui ha interpretato male l'autocompletamento questo è sempre un paragrafo quindi sto usando paragrafo apertura del paragrafo scritto break qui continuo a scrivere diciamo il testo nel mio paragrafo e poi chiudo il tag paragrafo se vado a lanciare con go live il mio file html vedrete che ha creato uno spazio tra la prima parte dello scritto e la seconda parte ovviamente se io volessi distanziare ancora di più la prima parte dalla seconda parte del testo faccio ctrl c ripeto di nuovo il tag ctrl v vado a lanciare di nuovo con go live e vedete che lo spazio è aumentato che cosa si può fare in alternativa per creare uno spazio? impropriamente si può usare il tag paragrafo che abbiamo già usato vedete ora la pagina si ripresenterà di nuovo così come l'ho lanciata la prima volta chiudiamo tutte le altre pagine per avere lo stesso risultato mettere si può mettere si può usare però non è una maniera elegante di scrivere il codice si può usare sempre e comunque il tag paragrafo quindi apro il tag e lo chiudo paragrafo apertura e chiusura così facendo vedrete che la prima parte del testo e la seconda parte saranno distanziate da uno spazio è un uso improprio ovviamente di scrivere il codice ovviamente dovete sempre e comunque usare il tag break perché è il tag che vi permette di diciamo posizionare il testo in maniera corretta bene questo video è veramente molto breve spiega un tag abbastanza semplice da capire nulla nulla di difficile quindi io vi saluto come sempre vi invito a mettere un bel like al mio video iscrivetevi al mio canale attivate la campanella per rimanere aggiornati sugli ultimi video che pubblico ciao e alla prossima